Ci troviamo al mercato Stratafoglia, ci hanno chiamato i commercianti, quali sono i vostri problemi? 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 Li state guardando un po'. Abbiamo problemi a terra, che le persone non possono camminare. Poi ieri abbiamo letto nel giornale che dovevano fare dei lavori e per 15 giorni forse il mercato dovrebbe stare chiuso. Ora mi dica lei, come facciamo noi se 15 giorni il mercato viene chiuso? Dove andiamo? A mangiare, a casa del sindaco, dove andiamo? Precisiamo che i lavori sono di Caltacqua, per quale motivo deve fare questi lavori? Già Caltacqua, due settimane dietro per 3-4 mesi, qua aveva creato già un casino che aveva fatto delle recinzioni, chi cadeva, chi non poteva montare, un casino. Lei inoltre lamentava il problema della spazzatura? Sì, della spazzatura, che qua sopra è pieno di spazzatura, buttano la spazzatura per terra perché non ci sono cassonetti. Quindi spazzatura, buche, Caltacqua, altri problemi? Ma i problemi sono di tutto, di tutto e di più, la gente che cade per terra, noi che non possiamo salire. Io ho perso 200 euro di ciliegia, ora se il signor sindaco mi restituisce per favore, perché li ho persi, perché noi camminiamo di qua con i mezzi, quindi come si fa? Di dove? Volo? Come facciamo noi? La gente che cade per terra? Le parole le aggiungo io, è diventato una vergogna, qui dentro è diventato una vergogna, di qualsiasi genere, di qualsiasi genere, è diventato una vergogna. Buchi, panchine, gente che cade, passeggini, le persone che camminano, che blende, è diventato un disagio tremendo. Un'altra cosa, le macchine qua a mezzogiorno, posso capire magari di pomeriggio che il mercato è chiuso, a mezzogiorno che cosa ci fa qua la macchina, alle 11, come si fa? Quindi se il signor sindaco può scendere e vedere lui stesso, no però tra quattro anni quando gli servono i voti, che lui diceva io sono un gianciolaro, a me mi piace il mercato, no, il signor sindaco non è un gianciolaro, il signor sindaco, deve scendere e deve vedere qua. Lei viene qui a fare la spesa, cosa trova che non va? Ma veramente al mercato si può vivere diciamo sul tenore di vita, che andiamo abbastanza bene, però ciò che ci circonda dentro il mercato della strada foglia, non vale nemmeno una cicca, non come mercato, ma come strade. Per esempio io se mi prendete qua, io qua avevo caduto e sono giovane, che ho 80 anni, una picchiarezza di 60 anni cade, una picchiarezza di 60 anni, 80 anni un catimondera, ma 60 anni cade. O comune se ne frega, perché? Perché la picchiarezza non sa perché si può denunciare il comune, io lo so invece, posso denunciare il comune.